Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla Firenze Mare, code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, per traffico tra Pistoia e il Bivio con la 1, tutto in direzione di Firenze. In A12, coda per lavori tra Carrara e Versilia in direzione Livorno, prudenza inoltre per vento forte tra Livorno e Rosignano, particolare attenzione alla guida di mezzi terronati e caravan. Arriviamo in Fipili per lavori all'altezza del Turbone, 2 km di coda verso Firenze tra Empoli-Est e Ginestra, in carreggiato opposta, coda ancora una volta di 2 km tra Empoli-Est ed Empoli. Prima di salutarci per il traffico navale, per maltempo il traghetto Piombino-Cavo delle 8.40 quest'oggi è cancellato. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!